Grazie, grazie ragazzi, sono... sto tremando, sono emozionata e sono felice, davvero. Grazie. La prossima canzone invece è la canzone della donna Tappetino. Una storia triste, tragica, che però può avere un liete fine, sì. Qua, 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 qua. Se solo tu potessi darmi un'altra possibilità fai la ricerca di un'idea, di seduzione seduzione che riesca a trasformarmi nella donna che ti vuoi, non vale più i dettagli del mio fascino perdente, vuoi mettere le doti di una donna di un flettino che ti ascolta anche quando dici caso, senza senso, un applauso assicurato, non ti senti fortunato, vacilla alla ricerca di un'idea di seduzione che riesca a trasformarmi nella donna che ti vuoi. Con le mani! Guardami mentre cammino, sono una prova da su un tamponino, senza paura non prendo i tuoi libri di polvola, blanche le gote di fragola, come una pambola, riccio di dono, e il mio mezzo è che la tuta pende non si parebbe di tutto a plebe, più più rilasso le altre donne, tanto mi dormi, tanto mi prendi e spegnerai confidentemente, pure quel soffio, l'unico soffio che mi resta l'illugina come te i migliori specialisti, per capire se è più facile ammettere la follia negando tutto, negli adatti luci qua, capisco che è soltanto un blocco d'equilibrio tra questa mia depressa, finta superiorità e questo sentimento d'essere forte che rimane mi appeso e attende, appeso e attende solamente la mia pigra volontà Con le mani! Hey! 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 Guardami mentre cammino, sono una prova da su un tamponino, senza paura non prendo i tuoi libri mi ricordo la gorgia e le bocca di febola, come una bambola di giulidoro e il mio mondo è che la tuta pende, non si farebbe di quei problemi mi fregna sulle altre donne, quanto rileo, ogni tanto mi prendi e spegnerai confidentemente, pure quel soffio si, quell'unico soffio Waaa! Everybody does now! Chi è un stato di lucidità Waaa! 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 Ta 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 ta! Aha! Facendo la ricerca di un'idea di seduzione che riesca a trasformarmi nella donna che tu vuoi